Benvenuti alla nuova puntata di Cucina con Stile. Come ben vedete abbiamo provato anche nello stile vestimentario di rappresentare questo. Oggi con me la nostra mamma Elena che ci ha preparato delle belle cose e la nostra assistente Valentina. Cosa ci avete preparato ragazzi oggi? Vedo dell'antipasto giusto. Mi sembra un bel miscolo innanzitutto tra la cucina etnica rumena e anche quella italiana. Siamo in Italia quindi dobbiamo presentare ingredienti che li troviamo qui. Con un tempo di preparazione abbastanza facile mamma Elena vero? Da mezzo retta non ci serve di più. Cosa abbiamo preparato? Mi sembra insalata di melanzane vale giusto? Sì, insalata di melanzane con la maionese preparata in casa. Buonissimo, quindi tutta roba genuina. Vedo che qui stai preparando un po' di design, un tocco di colore. E qui cosa abbiamo? Dei cestini, mi sembra grana questo giusto? Grana con l'insalata di Bioff? Sì, l'insalata di Bioff. Lo vogliamo spiegare un attimo cos'è l'insalata di Bioff? Che è proprio una ricetta rumena, giusto? Sì, l'insalata di Bioff è un po' diversa dell'insalata russa che si usa in Italia perché si mette proprio un po' di carne, diciamo un petto di polo. Quello che c'è non si mette tanta maionese e neanche tante patate, è un po' diversa. Quindi un po' più dietetica se lo vogliamo, perché avevo voluto darvi un spuntino di questo piccolo aperitivo, è ottimo per l'aperitivo, magari anche con uno spritz potrebbe andare a torcione, magari un bicchiere di prosecco, quindi andiamo sempre sul bianco se lo vogliamo, molto leggero. E per il secondo, dopo la piccola pausa, vi aspettiamo qui con noi. Ciao!